Mi prendo gli ultimi minuti per rispondere a Daniele che diceva, chiedeva una cosa e diceva è possibile passare da friendzonati, che per chi non lo sa significa che la donna ti ha detto no, stiamo solo amici, da friendzonati a friend with benefit, cioè amico di letto, non è la traduzione letterale ma in italiano si usa dire amico di letto o scopo amico, e chiede come eventualmente affrontare la transizione. Innanzitutto se uno è friendzonato perché la donna ha detto che lo ha friendzonato, serve quasi un miracolo per diventare scopo amici, cioè non è impossibile, Io ho un amico che ci si è addirittura sposato con una tipa che l'ha, è fatto una figlia con una tipa che l'aveva friendzonato, ok? Perciò tutto è possibile. Però diciamo che se lei ti ha detto no, guarda, restiamo solo amici, è molto difficile. In che modo è possibile passare da friendzonato a scopo amico o eventualmente a potenziale partner? Per passare da friendzonato a scopo amico ci sono due strade, la prima è quella di prenderla in un momento di debolezza, cosa che io non consiglio assolutamente perché si chiama manipolazione, Cioè aspettare che lei sia debole, fa se è sufficientemente debole, fare l'amico affettuoso e se lei poi ha bisogno di quel contatto emotivo, affettivo, particolare, proprio in quel momento perché sta male per qualche ragione, magari ci viene pure a letto con te. L'altra modalità per passare da friendzonato a scopo amico però con il rischio di diventare pure eventualmente un fidanzato, se anche a te va bene ovviamente, L'altra è quella di passare da persona che non ha le qualità che lei ricerca nell'amico con benefits, quindi nella relazione occasionale o nella relazione seria, a implementare quelle qualità. Ora, se tu riesci a implementare le qualità che per lei e in generale per le donne sono importanti, ovviamente magari non proprio tutte le donne ma alcune possono anche rivalutarti. Ora io per fare le rivalutazioni consiglio sempre una cosa importante, ovvero quella che la donna per un po' di tempo non veda l'uomo in questione, per quale ragione? Perché c'è bisogno che il suo cervello abbia uno stacco per un tot di tempo, in modo tale che quando ti vede dopo mesi magari, è costretta a rivalutarti, perché è passato un po' di tempo. Se hai anche cambiato qualcosa a livello estetico, corpo, capelli, stile, abbigliamento, eccetera, questo meccanismo di riscansione scatta in modo ancora più automatico, perché vede qualcosa di diverso e deve riscansionarti per capire se vai bene o meno. E una volta che ha fatto questo può decidere se le va di eventualmente avere una relazione o fare sesso con te. Se volete vi dico anche qual è il miglior attivatore di sesso, solo sesso, per le donne nel momento in cui sei stato frenzonato al momento in cui decide che puoi uscire dalla frenzon per fare del sesso. E nel 99,9% dei casi questo è dato dall'essere diventati più figli a livello estetico. È difficile che una donna ti passi da frenzonato a scopo amico perché tu hai implementato delle qualità intellettive. È molto difficile. In quanto la base del sesso, della scopo amicizia è che ci sia un'attrazione fisica. Quindi se uno riesce a implementare, ad esempio facciamo finta che io frenzono un mio amico, un tizio che magari non mi piace particolarmente, poi lo rivedo dopo un po' e lui magari se è fatto il bel fisico, ha un atteggiamento un po' più sicuro ed è più carino, per qualche ragione potrei anche decidere di farci sesso, se ovviamente non percepisco che alla base questo è innamorato. Perché se la donna sente che c'è un bisogno affettivo, bisogno però, cioè una pesantezza tipo innamoramento, necessità, spinta di per forza, quasi un'ossessione di avere un rapporto sessuale con lei, allora diventi inscopabile. Cioè laddove c'è bisogno, anche solo di fare sesso, uno diventa invalutabile, no invalutabile, diventa valutato in modo inadatto per una relazione anche di solo sesso. Cioè, detta in modo ancora più semplice, più siete bisognosi di qualunque cosa, più lasciate questa parte uscire, anziché elaborarvela dentro di voi, più è facile che la donna vi allontani. Giovanni dice, a me è capitato diverse volte di svoltare, ma erano comunque rapporti molto intimi già da amici. Alessandro dice, parlando di chiarezza, come si fa ad essere chiaro per far capire che solo una storia a leggerezza è di solo sesso, senza che poi ci sia un coinvolgimento? Perché poi lei ha pretese, sebbene si sia chiari fin dall'inizio? Alessandro, dipende che donne ti scegli, allora se ti scegli donne bisognose, altamente bisognose, che non hanno le idee chiare, sbagliano e dicono sì sì va bene solo sesso, poi si affezionano, l'ho già spiegato prima, e vogliono qualcosa di più. Quello dipende da quanto una è sveglia, detto in modo proprio così banale, però è così. Giovanni dice, quindi una prima impressione negativa può essere cambiata, certo che sì, perché da quel poco che ho visto nella mia vita la prima impressione è irreversibile. No, probabilmente perché non sei riuscito a cambiare veramente, Giovanni, anche a distanza di anni. E certo, io ho rivalutato un sacco di persone a distanza di anni e le ho trovate praticamente uguali a prima. Ragazzi, guardate che cambiare non è così semplice, cioè a volte sono lavori di tutta una vita, quindi può anche essere che la donna abbia fatto la valutazione e tu magari non si è cambiato o si è oscillato appena. Oppure tu abbia fatto un cambiamento magari solo a livello esteriore, magari a livello interiore no, e quella lo ha percepito che è finto, è ancora peggio. Cioè se io vedo che uno ha fatto un cambiamento finto e mi è capitato, cioè che ha finto di fare un cambiamento, ed è cambiato solo esteriormente e non interiormente, perde addirittura punti nella scala potenziale, non solo non li recupera, addirittura li perde, perché vedo che ha costruito un personaggio che sta credendo di essere cambiato e in realtà non è cambiato. Perfetto ragazzi, ecco Giovanni dice, sono cambiato a mio avviso ma forse non abbastanza, forse non sei cambiato rispetto a quello che voleva lei anche, possono esserci varie situazioni. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale se non sei già iscritto, clicca sulla campanella per attivare le notifiche e poi condividilo con degli amici che pensi che possano beneficiare di queste informazioni. Inoltre ti ricordo che questi video sono estratti da delle dirette che vengono fatte sul mio gruppo Facebook, vero uomo, crescita personale e relazionale, è un gruppo segreto, puoi entrare e viene rispettata ovviamente la tua privacy, è un gruppo per soli uomini che vogliono lavorare sulla crescita personale e relazionale. Quindi trovi il link qui in descrizione insieme ai link anche dei miei prodotti che trovi sul mio sito danielacoin.it e ti invito appunto a darci un'occhiatina e ti aspetto nel gruppo. Ciao, grazie!